Questa che è una nuova realizzazione, un'area verde utilizzata in qualche modo, nel senso che non è allestita, non è corredata da niente, c'è giusto uno scivole, un giochino per bambini e nel 2019 invece si trasformerà in una vera area attrezzata, direi il primo parco europeo che avremo ad Arezzo. Dunanti rumori, campi sportivi, bar e ristoranti ed infine un'area fitness, questo sarà il nuovo parco di Pescaiola. Il programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie entra nel vivo ed è stato così presentato il progetto definitivo relativo all'area dei 19.000 m2 compresa tra via Uccione della Fagiola e il limitrofo tratto di tangenziale di viale Don Minzoni. Sarà vivibile 12 mesi all'anno dove ci saranno all'interno una struttura a servizio degli avventori, quindi un bar, un ristoro, gli spogliatoi perché ci saranno tre campi polivalenti, inoltre ci sarà un campo da pallacanestro, due aree giochi, una per i più piccoli e una per i più grandi, un'area fitness, piste ciclabile e quant'altro. Quindi una vera e importante area verde nuova, completamente di nuova realizzazione a servizio di una importante area che è quella che è tra Pescaiola e San Donato, quindi anche densamente popolata, quasi due ettari di parco. Si tratta di un investimento da circa 2 milioni di euro. I lavori prenderanno avvio da inizio 2019, un intervento che dunque rientra nel programma di riqualificazione delle periferie. Ci sono in programma diverse opere pubbliche, la riqualificazione di tutta l'area del foro buario, quindi sia la parte antistante dove ci sono i parcheggi, sia la parte del parco vero e proprio, ma anche interventi diffusi nel territorio sull'illuminazione per nuova videosorveglianza che vanno nella direzione di una riqualificazione complessiva di tutta la zona sud della città, quindi tutta la zona sotto la ferrovia.